Ciao ragazzi, ciao ragazzi Allora, farò un video a richiesta, bello, a richiesta Allora, i vicini di casa mi ha detto Madonna, devi fare sto video perché alla fine si piglia un premio per il condominio più puzzolente quindi devi fare sto video Quindi, Madonna, mi cazzo scema, lo faccio Allora, il video è le mie scarpe preferite Le mie scarpe preferite sono belle, pratiche e hanno tante funzioni cioè non solo le metti in piedi ma te ne puoi fare anche un brodo te ne puoi fare, cioè le usi a tante cose Allora, prima ho queste cose da spiaggia belli, belli queste sono anche le ciabatte che si chiamano tutonfretta nel senso che se tu stai in casa con questi e devi andare a fare la spesa tante volte mi sono trovata in supermercato con queste ciabatte però chi mi guarda so belli, che so pratiche poi queste sono le mie scarpe preferite di sera quando andiamo a camminare con la suocera questi sono di Nicola sono 44 però io ho 39 però con un po' di cotone fino qua ci sta bene non mi piace non mi piace le scarpe nere nero e bianco poi le scarpe che fa invidia anche a tutto questo condominio perché ha visto le mie scarpe quindi sono rimasti impazziti adesso sicuramente anche le mie sorelle faranno richiesta di queste scarpe io sto guardando la piccola che salta di qua e della allora questi sono da HM che so belli qua scrive 40 ma io ho 39 e mezza mi prendo 40 perché siccome io so piccola come il piede così ma qua so grossa quindi mi prendo più balo dentro però vabbè allora queste sono le mie scarpe preferite belle 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 9 euro dopo che li sporchi li metti li sporchi una volta poi li lavi a mano se li lavi a mano ti viene oh sto da quando sono ho fatto l'intervento ruto come una maiala allora viene tutto giallo qua quindi non è bello quindi le ho fatto due lavatrici sono belli perché si fanno anche alla funzionalità alla caratteristica che ti viene aria dentro quindi sono bellissimi e siccome io non posso da questa parte non posso portare orecchini a ottobre mi tocca andare con questo orecchio scusate ragazzi è una cosa umana non guardate io li porto anche come orecchini perché sono belli sono belli e pieghevoli ecco sono belli mi piace questo è il destro il sinistro questo qua ha più funzioni nel senso che è porta cellulare tu ti metti il cellulare qua la piccola che fa disastro insomma ti lo proteggi ecco porta cellulare se vuoi pure porta il braccialetto perché beh è beh madame allora siccome io quando vado al negozio da prendermi qualcosa chiedo alla mia tartaruga che sia questa qua abbassiamo un po' amore no neanche non le ho fatto domanda ti piacciono queste scarpe? quindi è impazzita quando vede queste scarpe è proprio impazzita gli piace gli piace tutto quello che io mi prendo lasciamo la tartarugina qua perché lei sa di moda sa tante cose quindi ragazzi e ragazzi se volete le scarpe con più funzioni questi da H&M a 9 euro so cioè fai una o due lavatrici e dopo ti ripini così mi piace mi piace mi piace allora per le mie sorelline non ho fatto la salsa di aglio perché non avevo il pesce da mangiare ecco perché se faccio la salsa li mangio con il pesce però vi farò anche la ricetta di salsa di aglio vabbè ragazzi vi saluto Sissi alias Fiona adesso grazie che non hai tolto Ugo mando un bacione a tutti quanti ciao ragazzi ciao ragazze ciao